ciao ragazze in questo video vorrei mostrare tutti i prodotti che ho acquistato dell'ultima collezione di wicon quella dedicata ad halloween e quindi la queen of the dead e io ho acquistato tre prodotti ho acquistato entrambi i rossetti presenti in collezione la palette non ho acquistato nel mascara nelle liner perché non necessitavo né di mascara né di eyeliner e quindi mi sono concentrata sulle altre prodotti sono tutti in questa bustina di wicon la palette costa 19 euro e 90 mentre i due rossetti costano 6 euro e 90 all'uno inizialmente mi sono recata solo per swatchare i due rossetti ed ero quasi sicura che almeno uno dei due l'avrei acquistato e invece poi alla fine ho visto la palette ho visto che è abbastanza ma molto pigmentata e quindi ho acquistato anche quella vi faccio gli swatch vi parlo e vi dico le mie prime impressioni perché non li ho ancora utilizzati comunque questi prodotti e niente iniziamo allora la palette come vi dicevo questa qui mi ha convinto tantissimo il packaging oltre al fatto della pigmentazione degli ombretti è praticamente è una palette tutta per occhi dentro ci sono sei ombretti da 1,8 grammi e si chiama calaveras praticamente questo è il packaging esterno è davvero bellissimo comunque cioè si vede che è per halloween e appena l'ho vista l'ho swatchata in negozio quindi gli swatch comunque mi hanno convinto ad acquistarla anche perché comunque considerate che io pensavo che fosse un po' troppo comunque 19 euro e 90 per sei ombretti però poi l'ho presa lo stesso il packaging della palette è questo è di plastica ed è gommato praticamente è fatto praticamente uguale al packaging esterno è così di questo azzurro che è uno dei colori che ci sono all'interno della palette ha 18 mesi di pao e niente vi mostro come la palette ha uno specchio e questi sono gli ombretti praticamente sono c'è questo blu elettrico bellissimo non so quanto lo utilizzerò perché comunque un colore molto particolare però magari per del look appunto particolare per andare in certi tipi di serate potrei utilizzarlo poi c'è questo dorato questo nero molto scuro poi questo illuminante che da sul panna un grigio scuro e questo rosso sembra un rosso borgogna prospento con una base secondo me marroncina e allora praticamente sono tutti matti perché questo che è molto luminoso e vi faccio degli swatch e vi mostro come sono gli swatch io appena ho messo il dito nel nel negozio mi sono accorta della pigmentazione questo è il rosso spento poi il grigio scuro è questo qui come vedete i colori sono davvero molto pigmentati poi bisogna vedere compresi col pennello e l'aggiurro che vi ho di cui vi ho parlato è questo questo è diciamo che questo che mi ha convinto pur secondo me essendo un colore molto difficile da portare però mi è piaciuto tantissimo quindi l'ho voluta prendere e poi vi mostro magari il dorato che è questo qua mi piacciono abbastanza sono abbastanza pigmentati perché come vedete sono così e mi hanno convinto comunque a prenderlo oltre al packaging perché sono sincera il packaging ha influito molto perché ho visto online già la palette però sia per il prezzo poi sono piena di palette non lo volevo prendere però poi come ho swatchato cioè l'ho presa per quello e niente quindi come vi dicevo questa è la palette poi ho preso i due rossetti sono praticamente lo 01 bloody heart il packaging esterno come quello della palette quello in cartone e dentro ci sono 4,6 grammi di prodotto e questo è il packaging e all'interno del packaging è fatto così quindi c'ha questi fiorellini rose disegnate davvero carino anche per fare un regalino secondo me e questo è il packaging quindi riporta come quello della palette quindi con questi fiori queste rose e con il teschio naturalmente per halloween e questo è il colore quindi questo è un borgogna cioccolato lo definirei così è a 18 mesi di pao praticamente il colore questo si è un rosso scuro di quelli che di cui mi sono fissando però si vede benissimo che c'è una base marroncina secondo me e niente mi piace non è matt perché è abbastanza cremoso però non troppo diciamo non è troppo cremoso e l'ho voluto prendere li ho presi entrambi proprio perché sia per il prezzo perché non mi sembrava un caro se ero i 90 e poi perché inizialmente volevo prendere solo questi e invece è lo 02 e cioè si chiama il secondo 02 purple days e sempre il packaging è uguale anche qui dentro ci sono i fiori identico all'altro anche quello del rossetto vero e proprio e questo è più scuro allora questo e questo colore qua questo ha più una base viola è praticamente sulla scia secondo me del rebel però un po più scuro perché qua c'è più viola secondo me comunque questi colori vanno benissimo per questa stagione mi piace tantissimo sì non sono matte comunque pur essendo secondo me sono semi matte perché sono un po luminosi non so se lo vedete però non troppo comunque faccio lo swatch migliore così magari vedete com'è il colore non so quanto dureranno però comunque essendo così scuri sicuramente durano rispetto a un rossetto più chiaro e niente questi sono gli swatch queste sono le mie prime impressioni come vi ho detto non li ho ancora provati appena li provo vi farò sapere come mi sono trovata e come sono i prodotti se durano o non durano se i rossetti durano anche mangiando oppure se quanto durano farò dei test fatemi sapere se voi avete preso qualcosa di questa collezione se vi è tentato qualche prodotto se li avete provati cosa ne pensate se andrete a prenderli se vi piacciono comunque i colori sia della palette che dei rossetti se vi è piaciuto il video mettete mi piace e a presto ciao